La sola mano invisibile, per riprendere la grammatica di Adam Smith, tipica del mercato globale, pare allora oggi essere quella della violenza, e più precisamente di una violenza che non si vede se non nei suoi effetti, nelle tragedie nell'etico, come le chiamava Hegel, che genera nel mondo del lavoro e delle comunità umane concretissime. In questo senso, la rimozione dello Stato sovrano nazionale ha agevolato, dopo il 1989, lo sviluppo dialettico di un capitalismo sempre più radicale, sempre più globalizzato, non soltanto in ragione del fatto che ha rimosso la residua forza disciplinatrice tipica della politica sull'economia, ma anche in quanto ha favorito il superamento del momento del conflitto, proprio della precedente fase del capitalismo, quando servo e signore si guardavano in faccia, quando i diritti del servo scaturivano dalla conflittualità praticata concretamente negli spazi nazionali. Con lo scavalcamento degli stati sovrani nazionali si è rimosso, per così dire, il ring sul quale si svolgeva un conflitto, il cui esito non era affatto scontato, scaturendo appunto dalle concrete pratiche della contrapposizione. Abbiamo così, dopo il 1989, in forma sempre più evidente, nel regno della mondializzazione capitalistica, lo sfruttamento senza il momento contrappositivo e conflittuale. Quel movimento di contrapposizione conflittuale che era possibile nell'arena dello Stato nazionale, dove il servo e il signore, guardandosi in volto, confrontandosi sul campo, confliggevano. Le conquiste e i diritti, lo sappiamo, scaturivano dalle pratiche del conflitto entro lo Stato nazionale, dalla capacità organizzativa del servo cosciente di sé e delle proprie rivendicazioni. La sovranità nazionale, con buona pace delle retoriche dominanti che sempre da capo celebrano la mondializzazione capitalistica, era stata la cornice imprescindibile per le conquiste sociali delle classi dominate, nonché per le lotte del servo. Era al suo interno che si sviluppava storicamente il confronto tra forme politiche organizzate di destra e di sinistra, rivali per quel che concerne la diversa idea di distribuzione, a sua volta presupponente la sovranità monetaria dello Stato sovrano nazionale. Oggi il servo, nel quadro post-1989, non può vincere, perché allo Stato attuale non può nemmeno più combattere, costretto come negli spazi della globalizzazione, a scontare passivamente sulla propria carne viva un cumulo di sfruttamento e di ingiustizie, che come la produzione nel tempo globale sono sempre più delocalizzate. E ciò è oggi impossibile concretamente nello spazio globale l'incrocio fra sguardi tra il servo e il signore. Quell'incrocio fra sguardi che, come ci ricorda Hegel nella Fenomenologia dello Spirito, costituisce il primo momento del riconoscimento, anerkennung, il primo momento in cui può operarsi un conflitto teso anche a superare la conflittualità servo e signore.